Buongiorno, oggi è un po' una giornata speciale Celebro... come scusa? Il mio quarto anniversario di matrimonio con Yuri No, eh? No, nemmeno il mio compleanno, che dici? Aspetta Festeggio qualcosa di molto più importante Questo Ed invece di gettarmi subito al pc per mettermi a lavorare Decido così di perdermi nei trend di Facebook E che facciamo? Non ci proviamo? Yuri Non è una reazione rassicurante questa Yuri è tornato a lavorare da oggi Ed io invece ho aiutato mia suocera a togliere un po' terbaccia dal giardino Da esperto paparazzo mi apposto E mi accingo a riprendere il ritorno di Yuri Ha fatto anche la spesa Che però ha messo nella borsa perché Pro nature bro E a quanto pare c'è anche qualcosa per me E tra un sorseggiamento di pipì fresca antiossidante La morte definitiva del treppiedi con una durata della vita record di due mesi E una vita chiamata con mio nipotino preferito Ma solo perché ne ho uno Arriva l'ora della cena vegana a base di Zuppa di miso con alghe e cipolla 10 grammi di carota Broccoli e uova sode con salsa di uova E salsicciotti di maiale belli Succulenti e morbidi che si tagliano con i denti Manco fossero burro e si sciolgono in bocca nel giro di niente La cortina era comunque la mia preferita Lo zio nel frattempo fa prendere una pausa sui piedi Noomo Cioè noomo E stavolta c'è posta per me Speriamo che almeno questo duri due ore e mezza Puntiamo alle tre ore